Ci siamo? Ne è passato di tempo, Cloud. Il tuo geostigma è sparito. È un vero peccato. Seferoth, che cosa vuoi? Gli spiriti delle vittime del geostigma si riuniranno al flusso vitale e circoleranno nel pianeta soffocandolo, corrompendolo. Quello che voglio, Cloud è salpare nelle tenebre del cosmo con questo pianeta come vascello. Proprio come fece mia madre tanto tempo fa. Un giorno troveremo un nuovo pianeta e su quel suolo costruiremo un futuro radioso e chi ne sarà di questo pianeta? Beh, dipende da te, Cloud.